Esiste un metodo per capire il comportamento umano, un metodo di analisi, di parole, gesti, microespressioni facciali che ti permetteranno di capire la personalità, le intenzioni nascoste, la comunicazione, la credibilità e le emozioni di chi hai di fronte. Ogni giorno puoi capire la psicologia delle persone con cui interagisci. Sono Igor Vitale, psicologo, e ti presento igorvitale.org, il sito dove puoi scaricare più di 20 corsi gratuiti di psicologia. Si tratta di metodi che insegno ogni anno a migliaia di persone in Italia, Cipro, Romania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Serbia, Turchia, Grecia, Germania, Bulgaria e Francia. Ogni giorno questi corsi sono gratuiti ed a tua disposizione. Perché capire il comportamento delle persone è la principale competenza richiesta nel mondo del lavoro. Perché l'intelligenza emotiva è la chiave per il successo nella vita quotidiana. Puoi scaricare qui i corsi gratuiti in comunicazione non verbale, tecniche di riconoscimento della menzogna, performance mentale, autoipnosi, psicologia del lavoro, psicologia delle emergenze, psicologia dello sviluppo, psicologia criminale, delle investigazioni e della sicurezza nazionale. Ogni giorno puoi imparare i protocolli, di analisi della mente umana. In un clic puoi lasciare la tua email nella pagina corsi gratuiti e iniziare la tua formazione. Io sono Igor Vitale e ti aspetto.